Ancora ragazzi, guardate la cesta, è l'una del pomeriggio, posso girare ancora 2-3 ore perché tanto oggi ho tempo, incredibile. Questo è un anno indimenticabile, guardate, coppa la, ciao a tutti. Che meraviglia signori, la faggetta ha dato, guardate, sono ancora nel bosco, guardate che patatoni oggi, di prima qualità, tacchete, ciao a tutti. Ragazzi, l'una e mezza e continuo a trovare porcini, la cesta è piena e l'ho trovato già un'altra. Che giornata, guardate che porcino anche questo. Guardate che gambo, ma che roba, incredibile. Ciao a tutti. Sono le due del pomeriggio ragazzi, qua sono sul sentiero e guardate là, un altro porcino. Adesso torno indietro perché l'ho già trovato abbastanza oggi. E questo penso che sia l'ultimo. Vi saluto, ciao a tutti. Incredibile, 24 settembre 2018. La cesta è piena, ormai, e guardando i bordi del sentiero ne ho trovato un altro. Sono tutti dei patatoni. Guardate questo, è circondato da altri due funghi, un altro velenoso. Guardate che bestia. Guardate il gambo. Sono due, incredibile. Sono due attaccati. Guardate. Guardate che meraviglia. Incredibile. Guardate. Questi forse sono gli ultimi che troverò. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Io mi chiedo, lì c'è il sentiero, e ho visto della gente salire. E guardate il porcino dov'è. E la mia cesta è piena. Sto tornando indietro. Guardate che qualità. Questo alla Rodman proprio. Lì c'è il sentiero, e qua c'è il porcino. Anche un bel porcino, sarà un etto duetti. Buttata presa in pieno. Sentiamo il rumore. Uuuuh. Guardate che gambo. Sentiamo il cocco. Ciao a tutti. 24 settembre 2018. Sono sul sentiero, guardate. Roba da non credere. Qua c'è la cesta, piena. Sto tornando indietro alla macchina. E guardate... Cosa c'è qua? Un altro porcino, proprio del colore che piace a me. E sono sul sentiero, la Rodman. Guardate che roba. Che giornata. Guardate. Incredibile. Gli diamo un bacio. Grazie per la visione del video. Alla prossima. Ciao a tutti.